Però la domanda che ti faccio, visto che anche tu partecipi al dibattito con Cottarelli, ho visto un tuo intervento, quali soluzioni tu vedi sulla base della tua esperienza in prospettiva nei rapporti che sono in questo momento non proprio facilissimi, diciamolo con l'Europa, con i leader europei, con la Germania, ovviamente spiegata in una maniera comprensibile anche a chi non è proprio del settore politico-economico? Guarda, bisogna evitare di ripetere gli errori dell'altra volta. L'altra volta, quando c'è la crisi del 2008, c'è stato un primo grande errore, cioè i leader hanno discusso per quattro anni se dovevano intervenire gli Stati o l'Unione Europea e soltanto nel 2012 Draghi, ci ricordiamo tutti, ha avuto la forza di intervenire con quel famoso whatever it takes, come si suol dire, sull'intervento di sostegno all'economia e con la nascita del Fondo Salva Stati. Ma in quei primi quattro anni si è giocato tutto in negativo, quindi la prima cosa non ripetere l'errore di quattro anni fa, della crisi precedente e agire subito, subito, senza perdere tempo e questo mi sembra una prima cosa. Alcune cose sono state già fatte subito e le hanno fatte soprattutto la Commissione, è stato fatto questo intervento da 100 miliardi di Euro contro la disoccupazione, è stato annunciato questo intervento molto importante anche sul materiale sanitario dopo quei primi giorni drammatici in cui le cose erano andate in tutta direzione, è stato sospeso il fatto di stabilità in modo tale che ogni paese è stato oggi grado di intervenire per sostenere l'economia. La Banca Centrale Europea ha fatto quel grossissimo intervento dopo la gaffa iniziale della Lagarde che ha spaventato tutti, ma poi si sta comportando molto bene, tanto che i mercati sostanzialmente tengono. Quella è stata una gaffa. Il passo chiave è quello di come far sì che il sistema economico, le imprese, le piccole imprese, il mondo dell'economia abbia liquidità, abbia soldi e non si fermi perché nessuno compra, nessuno lavora e quindi non c'è più liquidità e questo lo si può fare solamente con un intervento europeo che gli stati devono concertare ed è questa una delle proposte che abbiamo fatto con Cottarelli oggi, ma ce ne sono tante in giro, nessuno è innamorato della propria. L'importante è che venga lanciato questo bond, un bond che è emesso secondo noi dalla Banca Europea degli investimenti, quindi è una cosa fattibile, un bond che sia finanziato tutti insieme e speso tutti insieme, quindi la più grande difficoltà che oggi c'era qual era? Una incomprensione tra i paesi del sud e i paesi del nord. I paesi del nord meno toccati oggi dalla crisi dicono voi volete usare questa crisi per fregarci i risparmi, la dico brutale come la racconta in tizzeria, appunto come dicevamo prima. E i paesi del sud, noi, gli stagnoli, cosa diciamo? Diciamo guardate, il virus non è che è venuto da noi perché abbiamo un debito alto, il virus è venuto adesso da noi, poi arriverà anche da voi, guardate oggi qual è il picco nel mondo, è la città di New York, adesso non si può dire che la città di New York sia meridionale, spendacciona, cicala, come ci accusano olandesi tedeschi di essere noi. Quindi la questione chiave è toglierci da questi stereotipi e capire che dobbiamo trovare una soluzione. Questa proposta che evita la paura dei tedeschi che dicono voi mettete le mani sui nostri risparmi, usate i soldi per fare i vostri debiti. No, facciamo insieme una richiesta di denaro al sistema, al mercato, la garantiamo tutti insieme e poi li spendiamo insieme a fare cosa? A sostenere le imprese, subito, con liquidità immediata. Se non si fa questo subito, salta il sistema. Questa è la mia impressione e aggiungo salta anche l'Europa.